Ciao Milano! In diretta da Piazza Gaulenti ci sono tutti i personaggi del nuovo film di Barbie che uscirà al cinema il 20 luglio. Questi ragazzi sono degli eroi a resistere con questo caldo e sono qui a promuovere appunto questo film che uscirà nelle sale molto molto atteso. Per questa occasione in Piazza Gaulenti è stata allestita un'enorme scatola di Barbie per potersi fare delle foto all'interno. Facendo le foto all'interno di questo box potete partecipare a un concorso che vi fa vincere tanti premi. L'enorme scatola di Barbie la potete trovare fino al 23 luglio mentre vi ricordo che per vedere il film al cinema il giorno di uscita è il 20 luglio. Beh ancora complimenti a questi ragazzi che con questo caldo riescono a mantenere perfettamente il loro personaggio. Ciao Milano! Ciao Milano!